L'Agbe, Associazione Genitori Bambini Emopatici di Pescara, impegnata da oltre vent'anni a garantire accoglienza e sostegno alle famiglie dei piccoli pazienti oncoematologici durante tutto il percorso terapico, si è attivata da subito per dare ospitalità ai bambini impegnati nelle cure oncoematologiche in Ucraina. A Pescara sono arrivati nelle ultime ore da Pisa, con un aereo della Guardia di Finanza, quattro bambini rispettivamente di tre mesi sei anni e due di dieci, due mamme di 29 e 35 anni e una nonna di 67. Dei quattro bambini tre saranno in cura all'ospedale Santo Spirito di Pescara. Ad accogliere le due famiglie all'aeroporto di Pescara il presidente dell'Agbe Achille di Paolo Emilio, il vicepresidente Giovan Battista Colangelo e una delegazione del reparto di oncoematologia pediatrica del Santo Spirito. Noi ci occupiamo di ospitare i familiari, di occupare, di ospitare tutti i parenti, ma fammi dire l'Agbe non è soltanto un ospitare, dare appartamenti. L'Agbe si occupa tutto tondo di tutte le famiglie di bambini con problemi oncoematologici. Noi le aiutiamo a tutto campo. Ormai sono 23 anni che noi portiamo avanti questo discorso. Noi siamo un'associazione formata da genitori, genitori di bimbi che hanno avuto i problemi appunto ematologici. Sì, in questo momento particolare guardiamo l'Ucraina e il momento è che questa nazione è martoriata, quindi ha bisogno di aiuto e noi nel nostro piccolo, quello che possiamo fare lo facciamo sicuramente. Sono arrivati ieri notti con un volo speciale effettuato dall'aereo della Guardia di Finanza e sono partiti da Pisa e sono arrivati qui nel nostro aeroporto. Sono stati subito trasportati dalla Croce Rossa qui al pronto soccorso di Pescara e lì hanno fatto tutto l'iter, hanno controllato i documenti. Con me erano presenti il professor Mauro Dianni, direttore del nostro centro ematologico, la dottoressa Onofrillo e la dottoressa Sau insieme alla psicologa Paola Sciarra che si sono occupato subito di queste famiglie. Per chiudere, Presidente, è possibile, probabile che anche nelle prossime settimane possano arrivare altri bambini dall'Ucraina per essere curati all'ospedale di Pescara? Questo non lo sappiamo. Io quello che posso dire è che il nostro è un centro d'eccellenza, uno dei migliori dettagli, è un centro accreditato a EOP. Ecco, ringrazio la Regione per l'impegno perché ci ha dato la possibilità di ospitare queste famiglie. Voglio anche ringraziare la successione Acros che si occupa di solidarietà come noi e ci ha permesso, insomma, questo ponte con l'Ucraina.